ciao a tutto il popolo infoiato della terra volete vedere una figure di star wars davvero figa bene iniziamo l'unboxing come potete vedere il cartone è marrone come le nostre vite e al momento non sembra avere segni di sperma il che mi rincuora partiamo con l'apertura se non conoscete questo personaggio siete delle capre ignoranti ma niente paura ve lo dico io è quel gran figo del moff gideon il principale villain di mandalorian esatto lo stesso che si fa rasponi giganti pensando di rubare e sfruttare la forza di grogu non avete idea di quanto sia assue facente sniffare l'odore di pedici appena aprite la scatola come potete vedere la qualità di questa bs è elevata lo sculpt della testa e le renderizzazioni dell'abito sono fedelissime all'originale e al prezzo attuale ovvero 25 euro è praticamente impossibile trovare di meglio inoltre gli arti sono snodati e potranno garantirvi al meglio la fruizione della figure per replicare qualsiasi scena della serie preferiate o per riprodurre di nuovo i vostri traumi infantili se questo unboxing vi è piaciuto lasciate un like e seguitemi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao